Scavo numero 2, siamo al centro dell'otto, situazione simile allo scavo numero 1, quindi sabbia, uno stato di sabbia e suolo nei primi 50 cm e poi lì sotto livelli di ghiaia con sabbia e qualche zona un po' più umificata eccetera eccetera. Poi abbiamo questo cumulo relativo allo scavo numero 2, questa è la situazione dell'otto, passiamo ora allo scavo numero 3, questo è il cumulo dello scavo numero 3 abbiamo già trovato la falda, a posto, simile all'otto 2, questo è tutto.